E' una domanda semplice. Diego, io... Che c'è? Ho bisogno di saperlo. Adesso non mi guardare così perché non posso resistere. È che... Violetta, lo so che tu e Leona avevate un rapporto molto bello. Tutto quello che vuoi. Però credo che noi due abbiamo un'ottima intesa. E quando penso alla nostra relazione penso che siamo una coppia perfetta. È banale, scusa, lo so. No, ma sul serio pensi questo di noi? Ma certo che lo penso. Però voglio che tu mi risponda perché mi sento molto ridicolo a dirti queste cose. Tu mi ami? Sì, io ti amo. Però... Non so, c'è qualcosa che... Allora, qual è il problema? Esmeralda e Jade sono cadute dalle scale. Che cosa? Come sono cadute dalle scale? Sì, ma tranquilli, non è niente di grave, ora stanno bene, però... Mi serve un po' di ghiaccio, scusate. Sì, sì, certo. Ecco. Non puoi pretendere che scelga tra voi due. È ridicolo. Perché? Perché no? Dimmi. Perché io non ho fatto altro che dire a Violetta che Diego trama qualcosa. Va bene, va bene. Ascolta. Non mi importa se mi hai trascurata. Ho bisogno che tu decida, così mi fai del male. E non me lo merito. Lo so, però non ho nient'altro da dirti. Ma ho scelto te e tu lo sai. Adesso chi deve decidere sei tu. Io? Devo decidere? Che devo decidere? Se vuoi stare con me oppure no. So che non è facile, ma... Non puoi pretendere che dimentichi una persona che è stata importante nella mia vita. Non voglio ferirti e non voglio vederti soffrire. Quindi se per non soffrire devi allontanarti da me, io non ti tratterrò. Non si sistema tutto con un semplice prendere o lasciare. Spero di non pentirmi di quello che sto per dire, ma... Confido molto nella forza del nostro amore. Gregorio, stai bene? Sta lontano, non mi toccare. Mi dispiace tanto, scusa. O se si fa neanche per te, non mi toccare. Ci lasci aiutare, Gregorio, per favore. Ti ha lontano da me, è brutto. No, il brutto è lui che ti ha lasciato cadere e non ti... Edrono, guardate cosa mi avete fatto. Ma dai, è stato solo un incidente. Non è stato un incidente. Ti sei messa d'accordo con Pablo per potermi ridurre così. Non senti che non si mette nulla d'accordo, perché Pablo è sempre d'accordo con Angie. Per favore, Jackie, la smetti di farmi sentire peggio di come già mi sento. Beh, è giusto che tu ti senta così. Pensa come hai ridotto Gregorio, guardalo. Non faccia così, lei sta bene, non è niente. Sta bene, certo. Certo, ma lo vedi come l'hai ridotto? Lo vedi? Ora non potrà ballare, lui non potrà ballare mai più. Mai, mai. Vuoi sapere come continua la storia di Violetta? Allora non perdere le puntate. Da lunedì a venerdì alle 20.10 in replica alle 14 solo a Disney Channel.